Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio ritirare fuori un argomento scottante di qualche tempo fa. Vai, seguitemi! Allora ragazzi, un argomento di qualche tempo fa. Fortunatamente, sembra proprio di sì, siamo usciti dal Covid. Non voglio ricordarvi il brutto periodo che è stato per tutto il mondo nel periodo del Covid, ma ci ha lasciato uno strascico. Ma non è proprio prettamente uno strascico, potrebbe essere anche uno spunto di crescita. Il Karate Online. No, 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 non uscite subito dal canale, non uscite da questo video, volevo fare un punto della situazione. Allora, il Karate Online. Qualcuno l'ha fatto durante il Covid, qualcuno no, qualcuno non ci ha mai creduto, qualcuno ci ha creduto e io sono uno di quelli che nel periodo del Covid ho tirato fuori questo argomento, ho fatto lezioni online ai miei allievi, ma ho trovato anche tanti ragazzi online che ancora tutt'oggi mi seguono online. Quindi mi direte voi, ma dai, il Karate Online non si può fare, è impossibile, bisogna per forza frequentare un dojo, bisogna per forza stare vicino al maestro, bisogna per forza... E avete ragione, ma c'è un ma. Il ma qual è? Allora ragazzi, pensate a una cosa. Ormai è tutto online, si compra online, si mangia online, si fa tutto online, ormai è un discorso veramente avanzato, addirittura si va verso il metaverso e anche il Karate si può adattare, grazie alla sua immensa versatilità, verso questo indirizzo. Cioè si può veramente fare Karate online. Io prima del Covid non avrei mai pensato, in sincera verità, proprio veramente, non avrei mai pensato di, ma manco ci pensavo lontanamente di poter fare Karate con un'altra persona davanti allo schermo, ma invece ho scoperto un mondo, sì, ho scoperto un mondo. Si può veramente fare Karate online tranquillamente. Pensate voi, io ho allievi che non ho mai conosciuto fisicamente, che non hanno mai fatto Karate, hanno proprio iniziato dal tempo del Covid, fino ad oggi, tuttora, faccio Karate a persone che non ho mai visto e sono arancio, cintura arancio, verdi, qualcuno è blu, mai incontrati e sono dei buonissimi Karatega. Perché? Pensate bene, una persona che abita in un posto particolare dove non ci sono scuole di Karatea vicino a casa, magari ci sono scuole però non gli piace chi ci insegna. Magari gli piace la persona che ci insegna ma non gli piace praticamente cosa fanno. Oppure io ho trovato tante persone adulte che hanno scoperto palestre, hanno cercato palestre, hanno trovato palestre vicino a casa ma fanno Karate solo a bambini, oppure fanno Karate solo per gli agonisti, oppure fanno Karate in orari con i quali loro sono a lavorare, oppure praticano in orari che praticamente non possono proprio fisicamente andare, oppure sono hobbisti che non si dedicano in orari extra di classe per loro, perché magari non è un vero dojo di Karatea, è una scuola che ha, magari è una palestra che ha quegli orari e non può usufruire di alti orari. Quindi una serie di problemi che cosa fai? Non fai Karatea, ti piace tantissimo fare Karatea, nella tua zona non c'è tutte queste caratteristiche, cosa fai? Mi contatti, mi contatti perché io faccio già dai tempi del Covid Karatea online ed è una cosa meravigliosa perché si riesce benissimo a fare Karatea tranquillamente ragazzi, a casa propria, quando volete, nel momento in cui volete, non avete perdita di tempo, non avete problemi di traffico, di parcheggio, prendere la macchina, un'ora di Karatea te ne vanno via tre perché tra andare, venire, fare la doccia, parcheggiare, un disastro. Non avete problemi praticamente di spese di carburante, tutte le cose noiose che ci sono prima e dopo l'elezione di Karatea non ce l'avete, siete a casa alle 8, alle 3, alle 5 pomeriggio, quando volete ci organizziamo, tac, eccoci lì, facciamo Karatea e siccome il Karatea è super versatile, non serve neanche una palestra in mezzo tutto per voi, basta una stanza in casa, ce l'avete un piccolo salottino, un posto tranquillo, una cameretta, spostate un comodino, spostate il letto come fanno tanti miei allievi e si fa Karatea, bastano due metri per due, non bisogna fare tantissime cose. E poi programmi, qualsiasi programma che volete, magari mi piace fare solo i Kataa, mi piace fare solo i comitè, dovete ripassare solo delle particolari cose, dovete fare dei programmi d'esame, potete o dovete fare magari o consolidare delle cose che avete tralasciato. Io ho degli allievi che magari erano cintura blu, non hanno mai preso nessun tipo di diploma, con noi potete prendere anche tranquillamente delle convalide di diploma anche online, perché se fate, non è che siete in presenza o siete là dallo schermo, sempre fate con me, quindi non cambia niente, quindi anche il discorso di convalide lo possiamo tranquillamente risolvere. E poi fare da soli è fare meglio, fare da soli è fare meglio, sì perché praticamente un'ora, quel che è un'ora, due, mezz'ora, concentrata su di voi e solo per voi fare da solo è fare meglio, non c'è confusione, magari siete una persona timida, non vi volete raffrontare con gli altri, cercate un approccio molto privato per centomila motivi, ognuno c'è i suoi, e con me lo risolvete, io posso risolvere i vostri problemi, perché facendolo online tranquillamente si riesce a emarginare questi tipi di problemi. E poi un continuo affiancamento, non è che si fa la lezione e poi non ci si vede più, si fa la lezione e costantemente vi posso mandare tranquillamente dei brevi video dove vi faccio vedere con un'applicazione di quello che magari abbiamo fatto con un mio allievo fisicamente, ve la mando e voi rimanete aggiornati. E praticamente è come avere sempre un tutorial personale online, tanti allievi mi scrivono, mi chiamano, mi telefonano, mandano un vocale, Massimo, la tecnica dell'altra sera non l'ho capita tanto, non c'è problema, chiacco uno in palestra dei miei ragazzi, vi faccio vedere di cosa stavamo parlando fisicamente, come può funzionare il discorso, ve lo invio e voi andate avanti col vostro pensiero. Possiamo fare un affiancamento sempre mediatico, cioè io vi facciamo per esempio un argomento e poi vi dico guarda in settimana devi fare queste ripetute, queste cose, hai un saccone, bene allora puoi fare questa cosa, hai possibilità di farti uno stretch nella corsetta, puoi vedere questo allenamento di gambe, questo allenamento di braccio, quindi non cambia nulla. L'unica cosa che non posso nasconderla è il discorso che nella palestra chiaramente c'è rapporto umano, che online non ci può essere, ma nulla vieta poi, a meno che non siete miei allievi che state in Australia, nulla vieta di vederci anche fisicamente, magari ogni tanto, anche con altri ragazzi che mi seguono online, fare un meeting e divertirci di presenza. Io conosco persone che stanno magari a 20-30 chilometri, gli allievi che mi seguono a 20-30 chilometri, ogni tanto abbinano la macchina, quando posso, non vengono giù, si fanno allenamento insieme. Cioè, è una nuova frontiera, lo so che tanti storgeranno il naso in questo video, tanti non capiranno, ma Massimo, ma io uomo allora sai cercare gente? No, non è, è per capire la versatilità fantastica del karate, si può fare dovunque vogliamo, sei in un parco, mi vuoi contattare, Massimo domani voglio fare il karate in giardino, ok, e che ora ci vediamo, hai sei pomeriggio, non c'è problema, ti metti la tua cantana col telefono e ti fa allenamento un pomeriggio davanti alla piscina che c'hai a casa, oppure nel giardino, oppure c'hai quell'oretta che stai aspettando il figliolo, oppure devi portare la moglie, portiamogli a fare la spesa, c'è quell'ore, ti fai una lezione di karate e eviti un disastro, una valanga di tempo buttato via. Questa è la mia idea ragazzi, se mi avete seguito fino qua in questo video, ma contattatemi, possiamo parlarne insieme tranquillamente, io vi spiego bene come ho fatto finora con i miei allievi con gli ottimi risultati che sto avendo. E poi nulla di trascurare, stili non c'è problema, Shotokan, karate di Okinawa, vedere i kata, vedere i kumite, preparazione atletica, non c'è problema, si può fare qualsiasi cosa online, senza problemi, l'unico problema può essere la vostra mentalità, magari un po' più indietro che diciamo Massimo è un pazzo. No, 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 si può fare alla grande perché i risultati, e poi potrei fare anche un video sulle testimonianze, parlano. Se siete d'accordo su quello che dico ragazzi, lasciate un commento, contattatemi e guardatemi un sito internet www.tempiomasimo.it. Allora un saluto dal Tempio Massimo e contattatemi, magari facciamo karate online. Ciao!